Ciao a tutti, sono Sergio Zolina, ho frequentato il liceo Bisazza, più precisamente per l'indirizzo scientifico, dall'anno 2015 all'anno 2019. Mi sento veramente di consigliarvi il Bisazza come scuola, poiché io sono rimasto veramente contento della scelta del Bisazza come mio liceo. Infatti in questi 5 anni posso dire che dal punto di vista dei servizi non c'è mai mancato nulla, veramente è stata un'esperienza fantastica da questo punto di vista, ma è stata anche un'esperienza fantastica dal punto di vista dell'ambiente. Infatti il Bisazza è un ambiente molto piacevole, soprattutto dal punto di vista dei compagni, ma anche dal punto di vista dei professori. Infatti posso dire di essere rimasto veramente contento di aver incontrato in tutti questi 5 anni stupendi professori e colgo anche l'occasione per salutarli. Ciao a tutti!